Stanno tornando! Preparare il regime per l'attacco! Dobbiamo riuscire a catturare Resionio e porre fine a questa lunghissima e sanguinosa guerra. Non deve più sfuggirci dalle mani come invece ha fatto finora in tutte le precedenti battaglie. Dobbiamo coordinarci, agire come una tempesta perfetta, prepararci e sconfiggerlo. Sì, comandante. Non possiamo permettere a Konishi di espugnare Choseon per primo. Hai ragione, ma il cancelliere Hideyoshi desidera che aspettiamo che arrivi il suo uomo. Quindi non abbiamo altra scelta se non quella di aspettare. Arrivano le navi! Uomini, giù al malo! Quelle non sono le navi di Wakizaki? Sì, comandante. Stanno tornando proprio ora dalla loro ricognizione. E quanti viaggi hanno compiuto esattamente? Tre, incluso anche quello della scorsa notte. Signore, chi è l'uomo che stiamo aspettando? Colui che ci è stato inviato dal cancelliere? Qualcuno che può rivelarsi essenziale per questa battaglia. Da quello che mi è stato riferito, è uno che potrebbe schiacciare Isun Shin.